Siamo tutti a casa delle persone che non ci possono parlare, ma che state vivendo? Un fuoco, ah! Sopprigliamo, uccidiamovi che così i dirigenti possano partire più soldi, uccidiamo tutti questi, che così affiniamo, ci sono 50 mila euro a testo da spartire, lei mi disse che quella non c'era, che stava per tenere, eh? Mi rispondo, signora Trinetti, un attimo, un attimo, chiede che la signora Giappetino gira, che lei stava sopra l'ufficio, si vergogna, ci ho pure investito, anzi, mi portai questi uomini, però. Se sapete che il popolare Pianni ha sbagliato il posto, che ci diamo con l'espressione, che lo scopo del signore, con quello che la spioniamo, e che lo spiega a trattare, lo facciamo a fare, 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 lo facciamo a fare. La Bacchina è una cuoregna, lo facciamo a fare, lo facciamo a fare.